Ah, hey, miei amici! Sono il vostro spavaldo bucaniere preferito! Foxy, la volpe pirata! Vi dirò, abbiamo un grande spettacolo per voi oggi tra circa dieci minuti! Aspetta, dieci minuti? Esatto, dieci minuti! Potete dannatamente crederci! Dieci minuti? Allora sarebbe meglio sbrigarsi prima che sia tardi! Oh, e io devo scaldarmi la voce! La 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 la! Bonnie, ti renderai utile pulendo il palco, non è vero? Qualunque cosa, signor capo! Cerca solo di non scivolare! Wow, 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 wow! Ehi, la volete smettere di smanettare? Comunque, voi mascalzoni siate qui in tempo per lo spettacolo! Non un momento prima e non un momento dopo, avete sentito? O sarete costretti a passeggiare sulla passerella? Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! à... Ha, 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 ha! Ehi, miei amici! Sono il vostro spavaldo bucaniere preferito! Foxy, la volpe pirata! Vi dirò, abbiamo un grande spettacolo per voi oggi tra circa dieci minuti! Aspetta, dieci minuti? Esatto, dieci minuti! Potete dannatamente crederci! Dieci minuti? Allora sarebbe meglio sbrigarsi prima che sia tardi! Oh, e io devo scaldarmi la voce! La 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 la! Bonnie, ti renderai utile pulendo il palco, non è vero? Qualunque cosa, signor capo! Cerca solo di non scivolare! Wow, 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 wow! Ehi, la volete smettere di smanettare? Comunque, voi mascalzoni, siate qui in tempo per lo spettacolo! Non un momento prima e non un momento dopo, avete sentito? O sarete costretti a passeggiare sulla passerella? Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ehi, miei amici! Sono il vostro spavaldo bucaniere preferito! Foxy, la volpe pirata! Vi dirò, abbiamo un grande spettacolo per voi oggi tra circa dieci minuti! Aspetta, dieci minuti? Esatto, dieci minuti! Potete dannatamente crederci! Dieci minuti? Allora sarebbe meglio sbrigarsi prima che sia tardi! Oh, e io devo scaldarmi la voce! La 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 la! Bonnie, ti renderai utile pulendo il palco, non è vero? Cerca solo di non scivolare! Ehi, la volete smettere di smanettare? Comunque, voi mascalzoni, siate qui in tempo per lo spettacolo! Non un momento prima e non un momento dopo! Avete sentito? O sarete costretti a passeggiare sulla passerella? Ah, ah! Ah, ui, miei amici! Sono il vostro spavaldo bucaniere preferito! Foxy, la volpe pirata! Vi dirò, abbiamo un grande spettacolo per voi oggi, tra circa dieci minuti! Aspetta, dieci minuti? Esatto, dieci minuti! Potete dannatamente crederci! Oh, e io devo scaldarmi la voce? Ehi, la volete smettere di smanettare? Comunque, voi mascalzoni, siate qui in tempo per lo spettacolo! Non un momento prima e non un momento dopo! Avete sentito? O sarete costretti a passeggiare sulla passerella? Ehi, invece, il vostro spavolto bucaniere preferito! Voxi, la volpe pirata! Vi dirò, abbiamo un grande spettacolo per voi oggi tra circa dieci minuti. Aspetta, dieci minuti? Esatto, dieci minuti, potete prendere davanti a Crabaci. Ehi, la buona trasportata di qua. La visione di questo fionato elettroidita. Cancellalo immediatamente. La visione di questo fionato elettroidita. Cancellalo immediatamente. La visione di questo fionato elettroidita. Cosa succede, Voxy? Pensavo che tu volessi il pubblico. Cosa succede, Voxy? Pensavo che tu volessi il pubblico. La visione di questo fionato il pubblico. Cosa succede, Voxy? Pensavo che tu volessi il pubblico. Cosa succede, Voxy? Pensavo che tu volessi il pubblico.